Venduto l'ex preventorio infantile di Cannobio, all'asta presso il Tribunale di Milano, è stato acquistato da una fondazione svizzera. Si tratta del grande edificio a cinque piani che si staglia sulle alture tra Carmine e Cannobio, una struttura ormai fattiscente e invasa dal bosco, ma che si trova in una posizione panoramica d'eccezione, ben visibile sia dalla strada statale che dal lago. Un tempo ospitava bambini disabili, lo stabile è dismesso da una quarantina di anni. La nuova proprietà sta ancora valutando la destinazione, l'ipotesi è quella di recuperare il vecchio progetto che prevedeva un uso turistico residenziale. Sono molto contento perché si andrà a dare nuova vita a una delle zone più belle di Cannobio, il commento del sindaco Gian Maria Minazzi, che ha già incontrato la nuova proprietà dell'ex preventorio. Si ancora non vi è certezza sulla destinazione dell'area e invece, nelle intenzioni della nuova proprietà, recuperare il più possibile l'esistente. Quella zona avrà così un nuovo futuro e nuovo decoro. Oggi è completamente invasa dal verde.